Che cos'è un wallet, Monti? Così mi hanno chiesto, sapete che il 2 febbraio esce il mio progetto NFT, e la domanda più ricorrente da chi non ha mai bazzicato nel mondo degli NFT, cripto, cose del genere è Oh, ma come faccio a comprare questi NFT? Ho bisogno di un wallet. Che cos'è sto wallet? Come si apre? Ed eccolo qua, per la prima volta in 50 anni faccio un tutorial. Libererò la ranzulla che v'è. Peraltro non lo sento dalla vita, Salvo. Devo sentire un po' cosa sta combinando. Era in tripato di pasticceria l'ultima volta che ci ho parlato. Vediamo in questo video che cos'è un wallet e come si apre. Allora, anzitutto, per capire che cosa sia un wallet, immaginati una roba così. Immaginati di essere in guerre stellari, ok? E sei su un nuovo pianeta, il Piru Piru Land da qualche parte. Entri al bar a ordinare la tua cedrata di riferimento e l'alieno che è lì a servirti con le orecchie d'elefante e la faccia da zia di Mandrake ti dice, costa un Ethereum. E tu lo guardi e dici, e te? Sì, 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 io non ho mai provato, urrà. Vabbè, posso pagare in contanti? No. Posso pagare con carta? Cettate carta? No. QR code? No. Nulla del genere. Questo ti guarda, sei il solito sfigato, ecco l'ennesimo umano che arriva da quel pianeta lì ridicolo. No, devi pagare in Ether e quella roba lì la paghi, per pagarla c'è bisogno di un portafoglio, in sostanza. Un portafoglio è tu dentro a quel portafoglietto metti questa valuta aliena. Questo è, in sostanza, un wallet, è un contenitore dove metti queste criptovalute. Ether è una valuta cripto. Mettila così. Ovviamente io la semplifico, la faccio facile, cerchiamo anche di ridirci un po' sopra, perché se no ci facciamo due palle così, con questi tutorial cripto così, e online trovi un sacco di spiegazioni più dettagliate, accurate, precise. La mia è spannometrica, però spero che quantomeno due idee in testa restino. A questo punto ti serve sto portafoglio. Quale portafoglio vai a prendere? Lo vai a comprare dal negozio in profumeria, in cartoleria? Profumeria non penso vendano. Però la mia profumiera vendeva da bambino anche portafoglio, per quello che ho avuto quell'associazione lì. Pazzesco. Via Solari a Milano, vabbè. Su questi benedetti wallet hai una sventagliata di possibilità. C'hai dei wallet che sono digitali, un portafoglio digitale, come fosse il tuo account Instagram, una roba così, e allora hai il Coinbase wallet, hai il Metamask, hai dei portafogli digitali. Non c'è una roba fisica da tucar, no, è una roba digitale. Oppure un'altra possibilità è quello di avere un cosiddetto hardware wallet, un aggeggio come fosse una chiavetta USB che tu hai, e quello è il tuo portafoglio. che posso avere il portafoglio normale, il portafoglio è a forma di chiavetta USB, e dentro alla tua chiavetta metti le tue valute, i tuoi averi, i tuoi possedimenti. Molto bene. Allora, quale wallet ti suggerisco di aprire? Uno che è super facile, è gratuito, si chiama Metamask. Te lo faccio vedere. Praticamente funziona così. Vai su metamask.io o, importante, fai attenzione alla quantità enorme di truffe che c'è in questo settore qua. Ogni due minuti ce n'è una. Per darti un esempio, io ho annunciato il mio progetto che esce il 2 febbraio 2022, che si chiama Monty Lab e sono Crazy Fury in nome dei miei NFT, che ti danno accesso a tutta una serie di vantaggi, benefici. E Belin, in 15 secondi netti, sono partiti subito tre truffatori in contemporanea che hanno preso la mia faccia, clonato alcune immaginette pubblicate, sbattute su OpenSea e vendute immediatamente facendo finta di essere il sottoscritto. Ovviamente in questi casi tu fai la segnalazione alla piattaforma OpenSea di turno, che è come dire, è l'Ebay. Ecco, è l'Ebay degli NFT. Immaginati una cosa del genere. Queste piattaforme sono lentissime e tutto quanto, un po' se ne futtano e così, insomma, è un far west totale. Fai attenzione, metamask.io, vai lì e ti scarichi il wallet. Sempre occhi apertissimi, è proprio la giungla totale. Parti con questo presupposto. E insomma, ci ridiamo sopra, ma speriamo che venga regolamentato presto e sistemato. Tutto il casino che c'è. Una volta che sei qua, te lo installi, è un'estensione di Chrome. Ricordi, devi avere Chrome come browser per navigare. E vedi, eccola qua, l'estensione metamask è aggiunta. Dopodiché, clicchi sulla tua bella estensioncina e sei nella peta di metamask, che mi ricorda sempre i jmask, che era il cartone animato che guardavano i miei figli più piccoli. Vai in sto PJ Mask, metamask, ti dice, siamo contenti di vederti, cara volpetta anch'io. Clicchi su inizia e lui ti dice, hai già un wallet in sostanza e hai già un sistema per recuperarlo, basato su una frase, adesso vediamo cos'è questa frase seed, oppure parti da zero. Se è la prima volta che stai guardando sto video, probabilmente parti da zero. È fantastico, allora dici, sì, iniziamo, crea un portafoglio. Prossima schermata di avvertenze, raccogliamo i dati per migliorare, eccetera, valuta tu, insomma, consentono, consentono, tipicamente acconsenti in alcuni casi, adesso non so se non ti fa passare o meno, insomma, un po' come Google, quando ti mette le condizioni dici, accetti o non accetti, ma io non vorrei accettare, e allora non puoi più usare niente, allora accetto. A questo punto crei la tua password, fino qui sei d'accordo che è la roba più facile del mondo? Cioè, stai mettendo un'estensione, hai cliccato su un bottone, hai cliccato su un altro bottone per aprire l'estensione, siamo a due clic, poi hai fatto un altro paio di clic per arrivare a mettere dentro una password, che è come creare un profilo di Instagram, Facebook, TikTok o quel che te per, in cui inizia la cosa diversa rispetto a un nome utente, un profilo normale che ti creeresti su un'altra piattaforma. In sostanza, nei wallet, si cerca di avere un livello di sicurezza maggiore, come è giusto che sia, è come se vai in banca. Ce l'hai presente che la banca ti dice, guarda allora, devi usare la chiavetta, il codice di conferma? Ha una serie di misure per rendere più sicuro l'account. In questo caso, nel caso di questo wallet Metamask, per renderlo sicuro ti dicono, noi prevediamo una frase che contiene 12 parole in sostanza, casuali, random, e vai a vedere online il perché questo metodo è sicuro. Qua c'hai 12 parole che ti devi memorizzare, e adesso vediamo come, però se tu ti perdi queste 12 parole, non chiamare me, non le recuperi più, basta, hai perso tutto. Le 12 parole sono molto importanti, è quella frase segreta, super segreta, che non devi dire a nessuno. Se arriva tua moglie e ti dice, senti ma qual è la frase segreta di Metamask, tu dici, non so, non me la ricordo, nulla a dire a nessuno. Magari a tua moglie la dici, insomma, in base ai rapporti che hai. Però la frase segreta, con le 12 parole, te la tieni stretta, stretta. E Metamask fa una roba intelligente. Ti dice, oh, guarda il video che te lo spiega, ti guardi il video, e poi ti dà lui la frase segreta. Non te la devi inventare tu. Ti dice, questa è la tua secret recovery phrase. Con questa frase qua, tu, ovunque sei nel mondo, ti sei dimenticato la passo, non c'è problema, picchi dentro la frasetta segreta, le 12 parole, esattamente in quell'ordine lì, e entri nel tuo portafoglio virtuale. Se sei ricco come Paperone Paperone, c'è un sacco di soldi, se non c'è una lira, te lo guardi e dici, vabbè, non c'è una lira, però quantomeno sono entrato, che è già un buon risultato, ti dà un po' di fiducia in te stesso. Cosa succede allora da questo punto in poi? Succede che clicchi qui per rivelare la tua frase segreta, Metamask ti dà la tua frase segreta, e poi dopo ti chiede di ripeterla nell'ordine giusto per essere sicuri che te la sei disegnata per davvero, e qua le avvertenze sono diverse. Quello che vedo è che ci sono tante tecniche differenti per conservare questa frase segreta, te ne dico alcune. La prima, quella che Metamask consiglia, è di mettere questa frase nel tuo password manager. Ci sono dei software che salvano tutte le tue password. A me non mi fa dormire la notte mettere la frase nel password manager, perché se poi crackano il password manager, questo è il mio dubbio, nella mia ignoranza, però insomma io del password manager mi fido sì, mi fido no, per quanto possano essere su questo. Non lo so, però questa è un'opzione. Un'altra opzione tipica è che uno si mette lì e scrive su un fogliettino queste parole. Un fogliettino ti metti lì e scrivi, come quando si fa lo spelling a scuola. Il mio figlio di otto anni fa lo spelling. Wonderful. Wonderful. Che lo faccio anch'io perché non ci azzecco niente di inglese, le parole sbaglio tutte. A questo punto ti scrivi la tua frasetta. Alcuni che cosa fanno? Scrivono le 12 parole, però sei le mettono su un foglietto, sei le mettono su un altro, e poi questi due foglietti li tengono in posti diversi. Così, se per caso arriva qualcuno che ti babba il foglietto segreto, non c'ha tutte le parole. E a quel punto deve avere entrambe le parole. Altri le mettono in una cassetta di sicurezza. Altri ancora pensano, sì, però sto foglietto, se poi si sbiadisce, quante volte si è sbiadito qualcosa? Se ti si sbiadisce è un diavolo di casino. Alcuni pigliano delle specie di lastrine di alluminio che vengono vendute online, dove puoi incidere le parole. Una roba allucinante, se ci pensi è una roba allucinante. Però in questo mondo tu sei proprietario, perché se poi quel foglietto, magari c'è un incendio in casa, è nato il più possibile, o quello che è, tu quantomeno c'è la frase alluminio con impresse. Due 12 parole, e con quelle sei in grado di rientrare nel tuo wallet. A questo punto entra qua, ti dà la solita schermata di quelle che sono le novità, di volta in volta c'è una schermata diversa, ecco stai facendo le transazioni migliori, e qua c'hai il tuo bel account pronto per raccogliere i tuoi hater, con il quale poi potrai acquistare i tuoi NFT. Nel prossimo video tutorial, super atteso, faremo 10 videos, però insomma, per chi avrà voglia di guardarlo, vediamo come si fa a riempire di hater questo metamask, perché senza la pecunia non serve. E allora vedremo come si spostano dei soldi, dollari, euro, pound, come si trasformano in hater per averli a disposizione con questo portafoglio che a quel punto, quando ti presenti su OpenC a comprare il 2 febbraio l'NFT del belato di Brighton, OpenC ti dice, oh ce l'hai i wallet? Ce l'ho! Grande, e andiamo! Che fatica a fare i tutorial!